del suo esercizio. E intanto siamo subito con Lexi Pruisman al corpo libero, altra grande sentite come appunto subito grande rincorsa. Rondata flick su cara avvitato. Allora la difficoltà come vi ho detto prima è quella di Vanessa Ferrari, è estrema al corpo libero. È arrivata un pochino avanti di spalle e ha rischiato anche di mettere la mano a terra. Ripartenza, seconda diagonale. Buona, buona davvero l'esecuzione. Un doppio teso di seconda diagonale. Veramente tosto. A metodo dei sinsinnati. Bella anche la musica coinvolgente. Sì, molto casella. Siamo tutti sempre molto trepidanti in attesa appunto di queste notizie. Abbiamo notizie quindi confortanti per quello che riguarda Vanessa? Sì, abbastanza. Abbiamo fatto un'indagine radiografica. Da questa indagine risulta che non c'è una frattura, quindi è un forte trauma distorsivo. Adesso bisognava un attimino analizzarlo meglio, però almeno è esclusa una frattura sul piede che sarebbe stato veramente un problema. Adesso vediamo poi domani con il nostro dottor Zattoni che ci segue, segue la federazione, segue tutta la giornata dell'Accademia di Brescia.